Un fenomeno che ci ha particolarmente turbato è stato l'avere rilevato la stessa temperatura del mare vicino alla costa toscana che è la stessa che tipicamente si rileva davanti alla costa dell'Egitto. E soprattutto, per la prima volta quest'anno, abbiamo rilevato in l'eau, in l'eau di mer di Toscana. E tutto è stato un disastro biologico della fauna in un'arabona di Sheva. La stessa temperatura della terra in Egitto e il fenomeno di di fredda! Di fredda! Di fredda! Di fredda un disastro.